un'altra via guardate come sfrigge si gira un po' piano piano due minuti pronta via perfetto avanti con la prossima e ora la regina pizza, sacicce e friarie via vai pronta, pronta guardate la scamorso com'è bella colorata ecco qua quello che abbiamo fatto in 35 minuti ora facciamo la prova a taglio facciamo la prova a taglio vediamo come viene fine aperta, ben cotta guardate sotto come è cotta si piega ragazzi questa è una pizzeria mmm ecco